santa lucia poscarone su santa lucia ha avuto un po' da ridire ha detto mi vedete la data di scadenza e poi nonostante la data di scadenza fosse valida la santa lucia aveva fatto abbiamo portato del parmigiano bello chiusi belli ho preso il 30 mesi sarebbe stato meglio il 10 sarebbe stato meglio il 10 mesi perché il 30 è troppo stagionato un po' forte in posto che non mi sono male ieri gli ho portato le lingue di gatto perfetto è contento se ne sdragliate oggi sono nazionato argentino altro uomo di raffascia ci voleva lo scarone sbacca no perché no 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 è riuscita no come? ve l'uscite? eh eh devi trovare facile per uscire qua ci ha voluto no perchè no no di là a dove devi andare? qui eh qui si basta allora dovevi ancora scendere perfetto eh qua su un circolo di vicino da cese perdice questo è un posto da cese perde comunque santa lucia la prossima volta ne andrà a portare a mio padre e se li portavi al parmigiano 10 mesi di stagionatura non 30 se non adesso male oscar is back tocca portarlo a casa perché qua sta a fare fuoco viva la life palli di raffa mille د 's us us Grazie.